Continua l'attesa per la ripertura dell'ingresso principale della grotta di Pertosa Oletta. L'ingresso è chiuso ormai da diversi anni a causa di un crollo di pietre e quindi per motivi di sicurezza. Dopo diverse pressioni anche politiche, qualche anno fa sono stati assegnati i lavori per diverse centinaia di migliaia di euro. Un'utizia che aveva fatto ben sperare per l'accelerazione del tutto. I lavori sono stati ultimati circa un anno fa, ma a causa di alcuni intoppi burocratici il meraviglioso ingresso principale, quello che porta direttamente nel cuore della grotta in barca, è ancora chiuso. Secondo quanto trapela è davvero una questione di giorni affinché anche gli ultimi ostacoli vengano superati e poter quindi rientrare dall'antro principale. Per fortuna occorre anche aggiungere, in questi anni grazie all'ingresso secondario non ci sono stati cali nelle presenze al netto del Covid, ma ritrovare questo ingresso è fondamentale per ammirare e apprezzare ancora di più un sito stupendo del Vallo di Diano.